In questo momento sono immerso in una realtà virtuale, se giro la testa a destra e a sinistra è come se fossi in un teatro in questo momento al silo du soleil e praticamente ho la possibilità di vedere a 360 gradi quello che accade attorno a me. Cos'è? Sono i nuovi VR di Samsung adatti, quindi è stato modificato l'aggancio per il Samsung Galaxy S6. E qua la definizione alta di S6 ha un senso perché quando viene ingrandita dalle lenti che sono dentro i VR si percepiscono meno i pixel rispetto al display di Note 4 che è il precedente telefono che era compatibile con i VR. Qua sopra abbiamo una rotellina per mettere a fuoco, qua un pad per comandare il telefono quando è inserito, un tasto back e il tasto per il volume. Comodi da indossare, possibili applicazioni? Film, foto a 360 gradi, videoguide, insomma tante applicazioni possibili, solamente la fantasia può essere un limite alle applicazioni di questo VR ed è un mercato in forte espansione perché molti produttori, non solo Samsung, hanno presentato dei visori, ognuno sulla sua strada perché chi ha il display integrato, chi ha come in questo caso il telefono che funge da display e chi invece ha un display olografico. vedremo se avranno successo o sarà un flop come il 3D. Basta!